Ciao a tutti ragazzi sono gli occhi e benvenuti ritrovati nella rirobacraft come state ragazzi? Allora innanzitutto vi ricordo tutti i giorni alle 18 sono in live tutte le sere su hitbox il link è in descrizione Oggi se riesco farò qualcosina di minecraft anche se no vorrei portarvi un giochino abbastanza nuovo E non è quello che ho fatto ieri perché ce ne avevi ieri ma uno ancora più nuovo E' un gioco stile management comunque i giochi che piacciono a me ragazzi Se siete curiosi venite a trovarmi stasera in live Ora pensiamo all'episodio di oggi ieri in live di minecraft ho fatto un sacco di cose E ragazzi più o meno siamo ai livelli di quando ho perso la prima serie della quanta roba craft E ora tutto quello che faremo scusate sarà quasi nuovo guardate siamo più o meno a pari punti Anche guardate ho sbloccato addirittura il delta che prima non avevo sbloccato non ha quanta roba craft E ora siamo più o meno a pari passo Allora guardate un po' andiamo a fare la blast brick oggi perché mi serve mi serve mi serve Per fare la blast brick dobbiamo andare nel nether no aspetta forse no forse no perché forse qua Eccoli io questi qua cuocendoli dovrebbe darmi brick Andiamo a fare ragazzi 27 di questi per fare la fornace e per creare lo steel E poi lo steel mi servirà fantastico proprio questi che mi servono ottimo Poi mi serviranno 27 per cui 12 13 14 di questi ne abbiamo meno male 14 di questi Oh ho detto 14 ok 14 Poi mi serve mi serve mi serve i mattoncini credo dei brick normali che dovrei già avere da qualche parte Quelli usati nell'episodio scorsi Eccoli qua Me ne servono un po' più di 14 perché me ne servono ben 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 10 10 Ok altri 20 facciamo più 20 40 40 di questi Nessun problem li andiamo a fare Prendiamo la dust prendiamo un bicchiere d'acqua e facciamo quelli là E subito al lavoro forza Andiamo un po' con 13 quanti me ne da perché non ricordo bene Dobbiamo anche cuocerli poi per cui A mano via me ne da ben 52 a voglia Questi 52 li andiamo a cuocere Tanto abbiamo la fornacchia raga Abbiamo la fornacchia dorata che è abbastanza velociacchia Questi 52 ne metterei un po' qui Ne metterei un po' qui Ne metterei un po' qua sotto Una cosa importante ragazzi ieri sono morto in live E mi era rimasta l'ultima vita L'ho craftata Ho craftato una vita me la sono mangiata avevo paura Ma mi era accorto Uh che cacchio Mi era accorto ragazzi una cosa importante Di non essere in hardcore Per cui morendo non mi toglieva vite Ho dovuto fare il comando AQS una cosa del genere hardcore Adesso dovremmo essere Cioè non dovremmo Siamo in hardcore adesso per cui Attenzione alla vita Dovete avvisare i vostri amici ragazzi Che da ora in poi Questa serie ha un po' meno visite Della quanta roba craft Perché Molta gente Più che altro i bimbi Pensavano che Avesse rifatto tutto Da capo Moshe eccetera Non sapevano che in 5 Barra 6 episodi Mi sarei messo al pari E per cui avvisate i vostri amici ragazzi Che siamo veramente a buon punto Avanzato Oh no Oh no Sì ho ancora il raffreddore Ho ancora il raffreddore Perché in casa mia Anche se mi dovesse passare Poi i miei figli Me lo rimischiano Per cui che gusto C'è di passarmi Il raffreddore dice Ma quasi quasi che rimango qua Ma devo farlo avanti e indietro Logicamente potrei farne di più Di queste fornacchie Allora Dividiamo in 3 Facciamo così E così Ho detto in 3 Va bene Ma va bene Però 15 bastano e avanzano Ora aspettiamo questi qua E dovremmo essere a cavallo Con le marmotte 15 16 Vabbè 15 bastano Ne mancano ancora Un po' 7 8 sono 15 Ancora Dovremmo esserci Dovremmo esserci Allora 4 e 3 Fantastico Bamma 28 28 Ottimo Le andiamo a mettere Ragazzi Io direi Nella stanza Dove c'è l'altra Quella che ci crea il liquido Tra virgolette Poi i panini Li ho cotti Ci da molto di più E questa è stata la mia idea in live Vicuz mi voleva copiare Luke Però è una mia idea Non è un'idea di Vicuz E andiamo avanti Allora questa qua Io la farei in quest'altro angolo Perché no Ora però Non mi ricordo Dovrebbe essere uguale Non dico cavolate Dovrebbe essere uguale Alla Fornace di là E Si E' così allora Si si chiude anche il dentro Poi martellata E bambete Ora qui Veramente possiamo metterci il ferro Andiamo un po' Andiamo qua Prendiamo il ferro Mi ero confuso l'altra volta Se ricordate Andiamo di qua Allora innanzitutto Andiamo qua E prendiamo questi qua Il coal cake Che ci servirà Per metterlo di qui Il coal cake Sarebbe un Carbone potenziato Non mi ricordo Fino a quanto cuoce E poi ci mettiamo il ferro Ora A lungo andare Ci farà lo stile Lo stile mi servirà Per fare tante altre Belle cosette ragazzi Oltre che Aver completato la quest Pamma E questa quest Non l'avevamo fatta Se non erro Nell'altro episodio Nell'altra serie Perdonatemi Qua mi serve il diamante Andiamo a vedere Animali nuovi Nessuno Non stanno creando Nessuno animali Secondo me Dovrei ingrandire qua Che ne pensate Facciamo un altro ricinto Ne facciamo un altro uguale Io ne farei un altro uguale Che ne pensate Qua è molto pericoloso scendere Ma io ci vado comunque Anche se di terra Ne abbiamo ben poca Io farei allora Un piccolo impiantino Ragazzi L'ho fatto un'altra volta Per creare la terra Che ne pensate Tanto ho un bel po' di Di cose lì Allora Sì 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 Facciamo così È inutile distruggere Quest'isoletta Che ne Oh mio dio Qua è una torcia Lo facciamo in questa prima casetta Perché no Allora Facciamo qua Mettiamo Allora 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 Innanzitutto la cesta finale Pampete Li mettiamo Lo per sopra Così Pampete Sopra Li mettiamo Lui Qua Lo mettiamo qua sopra Per cui facciamo così Eeeh Pampete E qua sopra Un altro hopper E qua sopra Un'altra cesta Mamma mia Quanta roba Pampete Ok Allora I baghefrone Qua sopra Li mettiamo Gli ambaradacchi Gli ambaradacchi sarebbero Ora li andiamo a prendere Allora Gli ambaradacchi sarebbero Questi qua Vi faccio vedere Intanto ragazzi Con la porta al gun Voglio fare un impiantino Appena ne ho possi Appena posso Portal gun Voglio fare Che scoschi Che scoschi Che non mi ricordo Portal spawner Portal health Don't use this Allora saranno questi qua Quelli che uso io Ok Si fanno con due diamanti Ah la nether star Porca di quella Pulpastrell E' craftabile E' craftabile Ed è craftabile Vabbè 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 Questi qua I with the skeleton Ragazzi comunque sono prendibili Perché dovrei farmi la spada Con la taglia testa Lì che non mi ricordo Come si chiama Ditemi nei commenti Perché è arrivato a questo punto Ditemi nei commenti Come si chiama Quella Quel macchinaggio Per fare La spada Quella che taglia le teste Lì ragazzi Aiutatemi per favore No Ma che cazzo Ragazzi Ho lanciato un uovo Sono uscite Ma che cazzo Tre galline da un uovo Sono uscite Ragazzi Sono uscite Tre galline da un uovo Ma che fai scherzi Ma che cazzo di bug è Dai seguitemi Ehi Dai Ma dai Ma se ti fa la posta Ho lanciato la cosa E una è anche morta addirittura Vabbè 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 Cose d'altro mondo Allora via questi Perché però le stavo dicendo Ragazzi Dobbiamo prendere Che schifo Allora Ne ho un po' Yes Ne ho un po' Tanto adesso ne facciamo delle altre Alberi 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 qua Ora ne facciamo delle altre Prendiamo questi panini E andiamo lì Allora Ora grazie a queste foglie Dunque lo sapete ragazzi Faremo della terra La mettiamo lì a farmare Quando andiamo abbastanza oggi in live O qua in video Facciamo l'altro spawner di ambaradam Loro scendono Vanno chi drento chi Chi drento chi C'è la pericentuale Quando diventa terra Esce di qua E c'è la dà Siccome ce ne serve un bel po' Noi ne facciamo dell'altra Tanto abbiamo l'ascia Con il silk touch E a noi Non frega nulla Vai Crescete Ricarichiamo l'ascia Ui ui Ok E vedete che facendo un colpo Bambete Guardate quanti ne abbiamo E addirittura seppure è consumata Seppure è consumata Non ce la fa l'ascia Devo metterli più usura Più usura cos'è i diamanti Vero? Se non erro sbaglio Se non erro sbaglio Sono i diamanti Guardate qua Altri cinque stack Porca civetta E poi un bel po' di legna Che non dovrei farcela Invece si Cioè consuma meno con la legna Che con le forbici Pah Strana sta cosa Le andiamo a mettere Chi drento Chi Oh Altri stack Ricordate che Ogni otto di questi È un pezzo di terra Per cui da uno stack Ne vengono ben otto Di pezzi di terra Ok Fatto anch'esso Vabbè Facciamola ancora Che più ne abbiamo meglio Tanto la legna Che alberone è cresciuto Oh my god E non ci arriverò mai Lassopra Sì Ciao Ciao Che ho fatto Non riesco a metterci No Dovrei salire Già a mano Dammi un pezzo Dammi un pezzo Non ci arrivo Allora Nessun problem Nessun problem Facciamo così Saliamo su lì Eppure in fretta Perché Mi nascono Gli zebedei qua Ok Via tutta questa roba No aspetta L'aggiustiamo Dai 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 Prima che nascono i mob Raga Via Ok 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 Diciamo che ho fatto Un po' di legna Dai ma giusto poca Mica chissà quanta E pochi alberelli Vabbè giusto Pirletta Se ho fatto le foglie Mi da meno alberi Ok Guarda qua quante l'ho fatta Mamma mia Devo ammettere Che questa tagliata È stata potente E vabbè Tre Tre pezzi di dirt Dirt Ottimo Ottimo Ragazzi sto preparando Un episodio Da brividi Perché farò un opening case In minecraft Pauroso Perché guardate quanti ne abbiamo Ora vi faccio vedere E rosicate per questo Guarda qua Pamma ne abbiamo A parte 12 borsette Abbiamo 4 No questo non c'entrano nulla Compact giant Abbiamo 2 41 di chance cube normali E 17 di questi colorati Perché sono le lampade da dentro Mamma mia ragazzi Mamma mia Da brividi proprio Allora Andiamo a vedere se mi ha fatto qualche Qualche cosa qua Me ne ha fatti ben 8 E mi da anche gli slug Gli slug Servono a Non mi ricordo Sinceramente A fare i concrete A fare i concrete Che comunque sono Cos'è un pezzo di Di muro Cos'è Sì infatti E' un E' un E' un E' un Diciamo che è un Dai Aspetta i concrete Non sono quelli là Che velocizzano Non mi ricordo Altro steel Ottimo ragazzi Ottimo Qua dovrei mettere invece Del carbone Carbone Purtroppo Purtroppo Non ne ho ancora Cosa facciamo Con questo steel Ragazzi Andiamo a fare Qualcosina Della meccanismo Della meccanismo Allora La meccanismo E' una mod Di corrente Macchinari Eccetera Secondo me A mio parere OP Iniziamo a fare qualche cavo Ok Basic Universal Cable Vanno con tutti Sono universali Serve lo steel A ingot E della redstone Speriamo che questo steel Che io Serva Perché io lo steel Della Tinkor Allora Della redstone Sto cercando Ok Me ne vengono Non so quanti Vediamo un po' Vediamo un po' Quanti ne vengono Otto Otto bastano Per adesso E poi vorrei fare Leat 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 Eccolo qua Leat generator Che servono Un osmium Che dovremmo avere E del copper L'osmium ce l'abbiamo Vero Osmium Osmium Basta fare doppio click Eccolo qua Abbiamo l'osmium Allora l'osmium Io lo andrei A cuocere Perché no Prendiamo il martello Il martello Si 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 E ce lo andiamo A cuocere Sempre ragazzi Solita routine Quella lì di Andare a demolire Il tutto Facciamo così Pam 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 Lo facciamo diventare di gravel Ora di gravel Ne abbiamo un bel po' di più Guarda qua Pampete Ben 18 Ne andiamo a mettere Lo facciamo diventare di dust Che è l'ultimo stadio Pampete E me ne da ben 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 28 28 Poi oltretutto Per 2 Perché la tinkers Furnace Ce li raddoppia Ok Pampete E ne abbiamo ben ben 28 Che cacchio l'ho piantata a fare Ma sono pirla Marca trota E li mettiamo Ah è finita la lava È finita la lava Questa cosa è gold È finita la lava È finita la lava Nessun problema Andiamo a Cacchio ho messo il secchio dentro Ma sono pazzo Andiamo a prendere la lava Che dovremmo averne A voglia Dovrei averne Un bel po' Ma quanto sono pirla Dove cacchio Come faccio a mettere la lava Devo andare di là a metterla Porca civetta Allora giù di là Oh sono scemo Perché non mi fa mettere la lava Ah qua Pirletta Lava 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 Guardate come lagga E guardate come scatto Guardate come scendono Gli FP 60 115 60 Quando metto la lava Sto cacchio di bug Di sta fornace maledetta Ok Via il gold Ora arriva l'osmium Il colore è l'osmium Non l'ho mai fatto qua dentro Sono curiosissimo Pampete Ok Questo colore Schifios Quanti lingotti Ah ok 28 più 28 Sono 56 comunque Ok Arriva l'osmium Eccolo qua Ce ne serviva uno di osmium Andiamo a vedere leat Eccolo qua Allora 3 ferri L'osmium e 2 copper Allora 2 copper 3 ferri E poi altra roba Che vediamo adesso Allora abbiamo detto I 3 ferri qua I 2 copper L'osmium Poi serve una fornace E due legni Ottimo Cioè poca roba Una fornace Tutta la legna che avevo Adesso non troppo legna Due legni Va bene Mettiamo qua Fornace E due legni Eccola qua Pampete Ora Questo qua ragazzi È un generatore di corrente Ok Lo andiamo a mettere In un altro magazzino Andrei questa volta in fondo Magazzino in fondo Perché no Questo magazzino in fondo qua Bello Da solo Isolato Qui Ci facciamo Questa cosa qua Allora E non possiamo Ah Non possiamo Perché C'è Le pareti in legno Devo usare la lava E mi brucierebbe tutto Niente Lo mettiamo Vicino qua Perché no Porca civetta Però sta cosa Lo mettiamo qua Per adesso ragazzi Poi lo sposteremo Dai lo mettiamo qua Sì dai lo mettiamo qua Che me ne fotte Qua Bambetti qua il centro Allora Sto coso ragazzi Dovrebbe funzionare con la lava Io non l'ho mai usato Sinceramente So che dovrebbe andarci La lava attorno Non ho ben capito Ci vuole la lava attorno Proviamo a vedere Prendiamo dei blocchi Vabbè ce li abbiamo Facciamolo così Alla brutale Dovrebbe essere così Con la lava di fianco Dovrebbe E infatti Genera RF K RF Sono i kilo RF Credo Pom 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 Mi va a prendere l'altra lava Credo che più lava metto Più ne faccia A questo punto Non lo so eh Non lo so Andiamo un po' Ok si va molto più veloce E mettiamo una terza lava Qual è il problema Ce l'abbiamo Però mi lagga tutto Con sta lava Non so se la fornace Orca ciabatta Allora mettiamo una terza lava Bambete E ok Qua non so che ci vada E qua non so che ci va Ok Magari ci va la lava dentro Potrebbe essere che ci va dentro la lava Non lo so Non lo so sinceramente Quello che so È che però possiamo far fuoriuscire Questi RF Ok Ok E volendo È compatibile Con questo robo qui Andiamo un po' Andiamo un po' Andiamo a vedere Dovrebbe essere compatibile Ragazzi eh Andiamo un po' Se me lo riempie di RF 32.000 No Non li fa uscire E invece sì Lo ha riempito di colpo ragazzi Vediamo se me lo mantiene Vediamo se me lo mantiene Lui lavora Gli mettiamo anche tutti Le aprile di che abbiamo Eh Cincinnischia Cincinnischia Ma lo mantiene ragazzi Cincinnischia Ma lo mantiene Guardate quanto Quanto botto Vedete perché vi dico La meccanismo È una mod OP Inutile secondo me ragazzi Perché veramente Guardate Cosa ho usato Un lingotto di osmium Due coppere e tre ferri Guardate qua Guardate che cavolo c'ho Ho già un botto di corrente Cioè questo qua Consuma 246 RF al tick E la stiamo ricoprendo Per cui Veramente È OP Ottimo Vabbè Mettiamo fuori la gravel In modo che In modo che Con la gravel Magari ci esce Qualche Qualche ambaradama Anzi Sapete che faccio Mi faccio Anche un pic Vabbè Volevo farmi l'opper Metterlo sopra Però non conviene Finché non faccio Un piccolo smistamento Cesta Non credo che convenga Allora Abbiamo questo Che abbiamo un botto di oro Comunque Abbiamo un botto di oro E abbiamo fatto Anche questo Vediamo qualche quest Nuova Abbiamo questa qua Che è del nether Allora questa qua Possiamo farla La water chill Che sono le pale Quelle là Della Della mod In general Le Come si chiama A parte Mi hanno detto Che qua Cliccando la R Mi faccio vedere I crafting Infatti Ah mi serve Quella legna Lì Che noi Già dovremmo avere Già dovremmo avere Per fare il legno Lo abbiamo Questi qua Si fanno Con tre di quelli Quattro e tre Quattro e tre Quattro e tre Io questa legna Non so se ne ho ancora Però so di avere Ancora succo di frutta Lì Quel succo di frutta strano Andiamo un po' Se ho ancora questa legna Da qualche parte Eh Ne ho uno stack Uno stack Ottimo 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 Dovremmo riuscirci Facciamo un po' di questi E abbiamo detto Che sono Quattro E poi tre E me ne servono Ben quattro Di questi Ok Per cui Quattro di questi E uno di questi Abbiamo la rotella Però me ne servono Ben tre di queste rotelle Orca ciabatta E non mi basta Guardate Me ne servono Otto di questi E ok E poi mi servono adesso Porca civetta Altri tre legni Altri tre legni Perché questo è così Ok No due legni A questo punto Però potremmo farcela Ragazzi Potremmo farcela Perché Ora vi spiego Abbiamo un po' di legna Yes Eccola qua E abbiamo delle boccette Ah beh abbiamo un'altra qua De boccetta Guarda qua Senza fare un giro Della madonna Abbiamo questo Facciamo così Bambete Fatto Where is the problem man Fatto E anche questa quest Oh ci da il kinetic dynamo Fantastico Possiamo già fare Le pale eoliche Eoliche No Che oliche eoliche Possiamo fare ragazzi Le water wheel Le pale quelle d'acqua Per creare corrente Della immersive Però fa poca corrente A questo punto ragazzi Usiamolo qui Le mettiamo un attimo via Abbiamo un altro Change cube E un'altra borsetta Abbiamo sbloccato Qualcosa di nuovo Allora abbiamo il coal Ci manca il tungsten Eingot Ok Surround un tungsten Con 8 coal In che senso Cioè si fa con lo coal Giuro non l'ho capito ragazzi Ditelo voi nei commenti Porca civetta Lasciamo stare questa quest Allora 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 Non possiamo andare avanti A meno che non facciamo questa Che sono gli lv Vabbè i wire Sono i cavi Andiamo un po' I wire Ci portiamo avanti Così completiamo questa pagina Il prima possibile Questa è con i copper E me lo ricordavo 4 copper Uno stick Allora 4 copper E uno stick Ui amico Amico man 4 copper E uno stick E facciamo che ski Ok La veloce 4 copper E uno stick Facciamo questi Questi qua sono Gli electrum E questi qua sono Gli alluminium Allora Dovremmo averli tutti Electrum solo uno Gli alluminium Però ce li abbiamo 4 Gli electrum Si fa come Non mi ricordo più Gold e silver Allora Possiamo farli tranquillamente Gold E silver Ho scoperto che l'alluminium Ah sono questi Ok Non Alluminium E questo qua Alluminium Ah questo qua è il brass Che pirla Che sono ragazzi Che pirla Allora Facciamo Amico No eh Non scherziamo Che cacchio Che cacchio di alluminium Vuoi Che cacchio di alluminium Vuoi Ah Due steel Due steel E due aluminium Ok Due steel Fatto E poi dovremmo fare Adesso Vediamo un po' L'electrum E 4 Electrum Ecco qua Vai Fatto Ragazzi Due steel Facciamo questi qua di steel E poi quelli di Electrum Fatta Anche questa quest Comunque questi cavi Servirebbero Se dovesse usarla Wow Un altro chance cube Di quelli colorati Abbiamo sbloccato Pam 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 Possiamo Antidiramarci Qua ci va a fare Più o meno Tutta l'immersive Ok 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 Mettiamo via tutto E ragazzi Io per oggi Mi fermerei Abbiamo tanta roba da fare Nel prossimo episodio Credo di fare L'episodio Opening pack Opening block Opening tooth Madonna mia Apri 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 le bursette And And le Le Cube Un bacione Un abbraccio Ci vediamo in live Vi ricordo E vi ricordo anche il like Di lasciare il like Sotto questo video E buona visione A tutti gli altri video Che usciranno Su questo canale Alle 13 Alle 15 Alle 18 Alle 17 Magari video bonus E anche alle 20 Ogni tanto video bonus Un bacione Un abbraccio Ciao Alle 18 Aические Grazie a tutti.